Se state vivendo un momento di difficoltà in famiglia, rivolgetevi a Gesù e Lui vi aiuterà. La protezione della nostra famiglia è importante perché se essa sta bene, ovviamente di riflesso, stiamo bene anche noi. Spesso però per le varie vicissitudini della vita in famiglia, viviamo momenti terribili, pieni di odio, di invidia e di gelosia, oltre che eventi che portano tristezza. Qui trovate due stupende preghiere da recitare al Signore Gesù, ma anche a Sua Madre e a Dio in persona, per fare in modo che arrivi quella protezione che è necessaria nelle nostre famiglie. Se state vivendo un momento di difficoltà dunque, recitate queste preghiere con il cuore e sappiate attendere con fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, che hai voluto vivere per trent'anni nel seno della Santa Famiglia di Nazareth e hai istituito il sacramento del matrimonio perché le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore, ti prego di benedire e di santificare la mia famiglia. Rimani sempre in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia. Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie. Donaci il coraggio nei giorni della prova e la forza di portare insieme ogni pena che incontriamo. Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino perché possiamo compiere con fedeltà la nostra missione nella vita terrena per ritrovarci poi uniti per sempre nella gioia del tuo regno. Amen. Ti preghiamo, Signore, per la nostra famiglia e per i nostri figli. Sii sempre presso di noi con la tua benedizione e con il tuo amore. Senza di te non riusciamo ad amarci di un amore completo. Aiutaci, Divino Salvatore, e dona la tua benedizione alle nostre iniziative per i figli e per le necessità materiali. Preservaci dalle malattie e dalle disgrazie. Dà a noi coraggio nei giorni della prova. Pazienza, spirito di sopportazione e pace ogni giorno. Allontana da noi lo spirito del mondo, il richiamo dei piaceri, l'infedeltà e la discordia. Fa che abbiamo a provare la felicità nell'essere noi l'uno per l'altro. Nel vivere per i nostri figli e con i nostri figli servire te e il tuo regno. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, con la tua intercessione fa che Gesù accetti questa umile preghiera e ottieni a noi tutti grazie e benedizioni. Così sia. Mio Signore proteggici ed amaci sempre che la nostra famiglia rimanga per noi il rifugio sicuro. Che all'interno di essa ognuno di noi possa trovare stima, serenità, amore. Prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo.